Vorrei presentare il progetto Posmanium che è il nome del gruppo musicale che fa capo a me, io sono Ettore Fioravanti, ed è il nome anche del disco che abbiamo registrato i primi di dicembre per Alfa Music a Roma e di cui sono molto orgoglioso, è appunto questo che voglio segnalarvi. Per me è un punto d'arrivo che ha due coordinate principali. La prima è omaggiare due dei modicisti che più mi hanno influenzato dal punto di vista compositivo e esecutivo, cioè il rapporto che per me è essenziale fra carta scritta e trattamento della carta, trattamento della composizione. E questi due modicisti sono Theronius Monk e Eric Dolphy. L'altra coordinata è la scelta dei modicisti, che peraltro è una caratteristica che Monk e Dolphy avevano sempre operato con grande intelligenza. I modicisti che con me suonano in Opus Magnum sono per me una garanzia. Sono Marco Colonna che suona in questo disco di clarinetti, in particolare il clarinetto in sepe molle e il clarinetto basso, Pasquale Mirle che suona il vibrafono e Igor Legari che suona il contrabbasso. Sono tre modicisti che rappresentano, appunto, la possibilità di coniugare la sicurezza nel trattamento della carta, quindi delle composizioni, del volere del compositore, e nello stesso tempo il trattamento personalizzato, individualizzato, improvvisato, che è tipico del jazz, che è voluto e necessario nel jazz, della carta stessa, della composizione. I brani contenuti nel disco, che sono dieci, sono otto di mia composizione, uno che si chiama Mainz, di composizione di Marco Colonna, e uno è una trasposizione jazzistica, ma molto rispettosa, dell'Allegretto, che è il secondo movimento della Settima Sinfonia di Beethoven. I miei brani hanno, quasi tutti, un titolo latino, come il titolo del gruppo e del disco, che è un gioco, naturalmente, che però vuole, in qualche modo, riecheggiare la necessità di sottolineare il mio essere un modicista italiano, europeo, e vuole anche nascondere alcuni giochi. Per esempio, il titolo del brano, che è il primo brano del disco, che è Clausi Brandium, è la traduzione latina di Autulanci. Autulanci è il disco capolavoro di Eric Doffi, uno dei dischi più importanti di Eric Doffi e degli anni Sessanta. Autulanci significa chiuso per pranzo, come Clausi Brandium, che è la traduzione latina di questo. Quindi è un gioco, naturalmente. Spero quindi che questo disco vi piaccia e se vi piace, che potrete venire a sentirci dovunque in Italia o nel mondo, i boccetti che faremo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.